Buongiorno dal dottor Claudio Saracino da Benessere Ipnosi Soluzione. Oggi risponderò ad una signora, ad una psicoterapeuta della zona della Lombardia che mi ha chiesto, dottore vorrei imparare il suo metodo di CS, di ipnosi, autoipnosi vera e professionale. Bene, oltre a questa signora ho avuto anche altre richieste in tal merito. E infatti la mia missione è quella di sdoganare l'ipnosi di CS anticonformista e anticommerciale il mio metodo che proviene direttamente da Los Angeles, da Beverly Hills, dalla dottoressa Rina Brunini e dal grandissimo dottore Michelangelo Garai per trasmettere il mio saper, le mie esperienze dirette e indirette da più di dieci anni sull'ipnosi vera e professionale. Io più che un guru mi definisco un mentore perché ho sperimentato tutto di più fino ad incontrare la mamma delle mamme che è questo metodo di ipnosi di CS che non ha uguali nel mondo. E io ho esclamato wow quando nel 2008-2010 dopo due anni sul campo di sperimentazioni con mio padre che aveva l'ictus eccetera eccetera, la dottoressa Rina Brunini e il sottoscritto bene, la mia vita è cambiata da così a così. Ho messo dieci anni circa per venire a mettere la mia faccia, anche senza occhiali da sole, su questi scherbi. Perché? Perché ci credo, ho visto su di me, su centinaia di persone, nel mondo, in Italia e all'estero, delle cose incredibili, favolose, stupefacenti con l'ipnosi di CS vera e professionale. Anche sulla mia fanpage ipnosi auto-ipnosi del dottor Claudio Saracino ci sono delle testimonianze così come sul mio sito internet www.ipnologiassociati.com, delle cose incredibili. Poi il sottoscritto ha fatto tanti corsi negli anni di ipnosi professionale, conformista e commerciale, che però non ha uguali rispetto a questo metodo per tanti motivi, uno dei più grandi motivi è che questo metodo parla di pratica, mentre gli altri corsi ti insegnano ad accendere la macchina, ma non andare a insegnarti a guidare. E neanche loro stessi, i famosi guru, ti insegnano cosa si prova se si utilizza questo tipo di suggestione piuttosto che un altro. Per così fa tutto di più genericamente e questo sinceramente non va bene. Poi naturalmente ci sono anche le persone serie, perché il mondo è pieno di persone serie, per cui rispondendo a questa psicoterapeuta della zona di Lombarda, della zona di Milano e rispondendo anche a tutte le persone con camice bianco, psicologi, psicoterapeuti, medici, ma anche persone comuni come mental coach, life coach, gente che vuole imparare questo metodo, posso dirvi che sono in procinto di preparare un corso. Naturalmente in base a ciò che voi fate, tipo se ho un camice bianco, un medico, insegnerò delle suggestioni della mia associazione, ipronologi associati che conta medici, psicologi, phd come il sottoscritto eccetera eccetera, ha in base a quello per cui siete portati a fare. Non è che tutti fanno tutto adesso, ok? Esempio, se uno vuole utilizzare il metodo di gesto soltanto per rilassare, per il benessere, insegnerò quella parte. Se invece uno, come un medico, vuole sapere quali suggestioni dare, come fare per chi ha, ad esempio, diabete, Parkinson, Alzheimer, bene, la mia associazione ipronologi associati ha trattato molti casi sul campo concretamente su queste cose, per cui ictus, paralisi eccetera eccetera, io posso trasmettervi tutto ciò che si deve dire, ok? Per avere risultati eccezionali, ripeto eccezionali. Ricordo ancora una volta che i miei mentori, la dottoressa Rina Brunini e il professor dottor Michelanghel Garai sono conosciuti a Hollywood, a Los Angeles, Beverly Hills e in tutta l'America Latina, qui in Occidente, non sono tanto conosciuti, anche se hanno trattato centinaia di casi e il sottoscritto per più di dieci anni è stato al loro fianco, ok? Quindi, non voglio definirmi l'erede, unico, ma sono vicino a questa definizione come mi ha definito una signora anche sulla mia fanpage, che conosce un po' tutta la storia. Per cui, un po' di pazienza, mi ha chiesto anche quanto viene, quanto non viene, quanto costa, quanto non costa, vediamo un attimino cosa fare, cosa proporre, cosa... Perché il mio problema è il tempo ragazzi, io viaggio molto spesso all'estero, sono spesso all'estero, perché ho molta attività in Italia e all'estero e vorrei veramente sdoganare l'ipnosi per gente veramente motivata, che vuole diffondere quest'arte e questa scienza a più persone possibile, soprattutto il mio metodo, metodo di CS, che non si trova in giro, ok? Fammi tutte le domande del caso, visita la mia fanpage su Facebook, ipnosi, autoipnosi e dottor Claudio Saracino, visita il mio sito internet www.ipnologiassociati.com, iscriviti a questo canale YouTube, benessere ipnosi, soluzione di CS, il dottor Claudio Saracino e fa share, condividi con amici e parenti perché può essere quel quid che gli cambia la vita e visita anche i miei profili Instagram e Twitter, benessere ipnosi, soluzione di CS, il dottor Claudio Saracino e ricordati, quando farò un corso, se lo farò e quando lo farò, lo saprai in un modo o nell'altro, ok? L'importante è che tu sia convinto e soprattutto che magari inizi a seguirmi sui social, a provare qualche mia opera d'arte, magari un Audi MP3 DCS, che troverai sul sito internet oppure se scrivi alla mia associazione ipnosi e associati chiocceralibro.it e vedrai veramente un qualcosa unico al mondo, perché se sei arrivato a questo sesto minuto e 21 secondi, vuol dire che ci credi, ok? Credi veramente nel potere della tua mente, senza mai, senza sé. Un bacio, un abbraccio dal dottor Claudio Saracino e al prossimo video.